Andrea Enrico, giovane talento dell'Avellino Calcio, si è regato a Villa Stewart per curare il problema muscolare che lo sta condizionando nell'attuale stagione sportiva. Il terzo stop in stagione arriva per uno stiramento del bicipite femorale della gamba destra, un ripetersi di questa problematica che ha allontanato dal campo fino ad oggi. Enrico, calciatore di cui si parla un gran bene negli ambienti sportivi, finora ha disputato solo due gare con la maglia dell'Avellino per un totale di 27 minuti giocati. Fino a questo momento la sua stagione è stata sfortunata, prima il coronavirus, quello ha colpito due volte, poi continua i guai muscolari. Mister Braglia ha sempre dato fiducia al ragazzo, anche se in più, occasioni non sono mancate le stoccate nei suoi confronti, reo di non dare il massimo in allenamento per la paura di infortunarsi nuovamente. Adesso, presso la Clinica Romana, un'eccellenza nell'ambito sportivo europeo, il calciatore verrà seguito da uno staff medico per la riabilitazione, con la speranza che il calciatore torni in campo per la fase finale del campionato. Adesso, presso la Clinica Romana, un'eccellenza nell'ambito sportivo europeo, il calciatore verrà seguito da uno staff medico per la riabilitazione, con la speranza che il calciatore torni in campo per la fase finale del campionato, soprattutto torni a disposizione il mister per la fase play-off, fondamentale nel cammino dell'US Avellino. Grazie. 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 Grazie.